Questa opera realmente molto importante che riprende l'intera divina commedia in un solo foglio. Mi induce a un ragionamento che fa il paio con certe considerazioni, niente meno che di Bettino Craxi, in relazione all'uso delle parole e al significato intrinseco e polivalente delle parole stesse. La divina commedia è un'opera importantissima anche perché è stata stampata in più volumi, anzi più andiamo avanti nel tempo e meno serve. Se la divina commedia fosse stata stampata in un foglio solo come qui, il significato di questo importantissimo poema sarebbe stato sostanzialmente diverso e sarebbe stato recepito tra l'altro in tutt'altra maniera. Eccola qua, divina commedia, importantissime iniziative culturali e qui abbiamo anche niente meno la chanson de Roland che ci dice quanto sia importante mettere assieme. Poi il cantare del mio feed, anche questo fa parte della grande tradizione europea. Ottima iniziativa.